Non è ancora l'alba quando sui binari ferroviari della stazione di Terontola si ferma il primo Frecciarossa. È la prima volta in assoluto che un treno sulla linea alta velocità a Roma-Firenze si fermi nello snodo ferroviario dell'Aretino nel territorio di Cortona. L'evento è stato accolto con entusiasmo dalla popolosa comunità locale, che oltre a Cortona e alla Vardichiana rappresenta uno sbocco essenziale per il Trasimeno e tutta l'Umbria. Ci sono solo le fasce tricolori e le istituzioni, ci sono i territori. È importante tornare a valorizzare i territori. Il Frecciarossa sarà in grado di valorizzare i nostri territori. Da tempo la Toscana studiava l'ipotesi di una fermata intermedia tra il capologo di Regione Toscano e la Capitale, idea passata sotto il nome di Media Etruria, che vedeva interessata anche Perugia. Proprio da Terontola, infatti, la linea si biforca in direzione del capologo Umbro. Abbiamo come Umbria l'interesse a raddoppiare o comunque velocizzare tutta la tratta per noi vitale da Foligno a Terontola, apportando ulteriore ricchezza e passeggeri in Toscana. Quindi io credo che se potessimo iniziare questa collaborazione sarebbe per noi tutti, per la Toscana e per l'Umbria, un punto fondamentale per guardare al futuro. L'arrivo alle 5.54, la ripartenza due minuti più tardi alla volta di Milano e poi Torino. Tre ore il tempo di percorrenza per raggiungere il capologo Lombardo.